Cari amiche e cari amici, questo è un video con una ricostruzione, un pallare infusa, ma che vuole dimostrare due cose. Come tutta questa storia della liberazione di Silvia Romano è stata utilizzata sia dai terroristi che dal nostro governo, dai terroristi islamici come propaganda alla Jihad, per dimostrare la loro potenza e anche per dimostrare al mondo come è facile tenere sotto scacco gli occidentali e sfruttarli ai propri fini. Dalla parte del governo invece è servita come diversivo per farci distrarre da tutti questi massacri quotidiani che ci stanno facendo da quando ci hanno fatto indossare in maniera obbligatoria la museruola. In questa ricostruzione alla rinfusa voglio partire da un articolo intitolato Silvia nelle mani dei jihadisti convertita e forzata alle nozze. È un articolo di Luca Fazzo del lunedì 30 settembre 2019. Occhio, 30 settembre 2019. Mi interessa solo questa parte. Silvia è lì, in una di queste zone, probabilmente nella vasta area del sud ovest, dove la fanno da padrone in Mujahideen di Al-Shabaab, filiazione diretta di Al-Qaeda. Vi è stata trasportata alcune settimane dopo il sequestro nel villaggio Kenyota, a 80 km da Nairobi e nella sua nuova prigione in Somalia Silva ha dovuto affrontare un'esperienza che puntava a cambiarla nel profondo. Si è dovuta sposare. Il matrimonio, celebrato ovviamente con il rito islamico, l'ha fatta divenire proprietà di un uomo del posto, probabilmente legato all'organizzazione che la tiene in ostaggio. Oggi Silvia, oggi sappiamo che si chiama Isha, è una donna che indossa il velo e segue la legge coranica. Vogliono che si senta una di loro. Insomma, questa Silvia è andata a giocare, a fare la crescere rossina in Africa, come giustamente dice la De Mari per inviare qui i selfie con i bambini neri. Poi è stata in un primo momento rapita, ma subito ceduta al Mujahideen di Al-Shabaab. È diventata islamica. La prima cosa che ha detto è appena arrivata in Italia. Nessuno gliel'ha chiesto sono diventata islamica, poteva aspettare anche un attimo per lo dopo. Si è sposata, è entrata nel peggior islamismo, perché non è che è diventata musulmana, è entrata nella logica dei terroristi islamici. Ci sono state queste trattative tra intelligence italiano e intelligence turco. Perché sono stati messi di mezzo i turchi? Perché nelle zone dove è stata liberata, proprio gli italiani non ci possono neanche entrare, o meglio, non tanto quanto italiani quanto cristiani. E quindi loro trattano solo con musulmani. Noi sono andati agenti turchi a trattare. La notizia ufficiale è che questi 4 milioni gli avranno dato molto di più, che si sono poi spartiti. Non gli è parso vero. Questa ragazza poi, come sappiamo, è tornata. L'abito che indossava, l'ho spiegato per la testimonianza di una somala in un video precedente, è proprio il tipico abito degli integralisti, che fanno indossare le donne degli integralisti. Non se le è voluto levare tutto il viaggio. ha professato di chiamarci Aisha, che era la moglie di Maometto. Aisha, questo nome. Ha tenuto a sottolineare di aver abbracciato l'islamismo, ha voluto subito un Corano. E la cosa assurda, e adesso veniamo agli italiani in questa ricostruzione confusa, è che Luigi Di Maio, che poi anche lui faceva parte di questa trattativa, manteneva i contatti, in quanto ministro degli esteri, e quindi ha lavorato per mesi alla trattativa con i rapitori proprio. Al momento della diffusione della informazione, della notizia, che succede? E viene messo da parte. E questo adesso ricomincia il pulcinella italiano. Conte, pur di fregare Di Maio, fa un tweet, pensate, che non solo prende di contropiede Di Maio, un tweet che appunto parlava della liberazione di Silvia Romano, e due si precipitano poi, e questo tweet tra l'altro prende, cosa incredibile, impreparati, pure i genitori della stessa Silvia Romano, perché questa importante notizia non era stata inoltrata neanche ai genitori, come è stato poi confermato da Enzo, che è il padre della ragazza. Quindi che succede? Questa strumentalizzazione, da una parte i terroristi tutti felici e contenti, perché questa è arrivata qua, mandando un messaggio di integralismo proprio tramite il vestito e tutta una serie di codici simbolici legati all'integralismo islamico, Conte e Di Maio, dopo aver dato l'ira di Dio di soldi ai terroristi, che a loro volta ci uccideranno decine di migliaia di persone, magari uccideranno anche qualche italiano, pur di utilizzarsene come diversivo per far dimenticare la situazione drammatica che stiamo vivendo, il mess, la crisi economica, utilizzano questa ragazza, ma fanno a gara tra loro per chi arriva prima, perché Conte si sarebbe voluto fotografare senza Di Maio, e quindi succede che poi Conte va per accoglierla, questa si rifiuta intanto di cambiarsi di abito, arriva pure Di Maio tutto terafelato con la mascheretta, con i colori dell'Italia, perché deve stare per propaganda anche lui vicino a Conte, Di Maio era stato appunto avvertito, l'ha saputo dal tweet insieme ai genitori, di questa ragazza che è andata lì a giocare a fare l'indiana Jones dei poveri, e poi tutto il resto, tutto il resto ve l'ho raccontato nei video, però volevo raccontarvi anche questo aspetto, di come tutto a nostre spese, di come tutta questa storia sia stata utilizzata, dai terroristi islamici come uno spottone enorme di propaganda all'integralismo islamico, in tutto il mondo, perché dice che hanno proprio festeggiato i siti non islamici, ma islamisti in particolare, proprio i siti dei terroristi così, la foto di questa Silvia Romano è rimbalzata di sito in sito, in più c'è stata questa squallida operazione di Di Maio e Conte, dei quali dovremmo veramente vergognarsi, e si dovrebbero vergognare quelli che hanno votato 5 stelle. Un'ultima notizia, il video che gira con Silvia Romano, nuda, che cammina per le strade e fa un esperimento sociale, è una bufala. Quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, anche perché sono talmente negative tutte le cose che si legano a questa ragazza, che è vero che attribuirgliene una di più innocente, poi tra l'altro rispetto alle cose che ha fatto, non sarebbe niente. Però così, per la correttezza dell'informazione, quella è una bufala, e quindi quella ragazza che state passandovi un WhatsApp dicendo che è Silvia Romano nuda, che gira a fare questo esperimento, è una grande stupidaggine. Bene, cari amiche e cari amici, è tutto surreale, è tutto surreale. Siamo nella bocca di tutto il mondo come i soliti idioti italiani, che si fanno mettere sotto il paese di Abulcinella, il paese dove Di Maio e Conte fanno a gara per farsi fotografare i perprimi con una integralista che dà dei segni precisi a terroristi islamici che noi paghiamo e che ci vengono ad ammazzare. Boh, un caro abbraccio a tutti, non so più che dire.